Allora, ho il piacere di presentare il dottor Piero Lauriola che ci accompagnerà per la prima parte della formazione di questa sera, che ci farà un escurso per quanto riguarda la legge del bilancio in materia pensionistica e tutte le novità. Lascio la parola a Piero e lo ringrazio per la disponibilità e il suo tempo. Piero ti lascio la parola. Grazie, grazie per l'attenzione e grazie per l'invito. Solo aggiungere un altro dettaglio alla mia presentazione. Io lavoro in Ips Servizi, che è la società in-house dell'Ips, che gestisce, tra le altre cose, anche il call center dell'istituto. Frequento un po' la materia previdenziale perché nella mia storia mi sono occupato di questi temi, anche se oggi mi occupo di altre cose, però è una frequentazione che è continuata anche al di fuori della mia attività professionale. Come dice la Beatrice, ci soffermeremo, faremo una rapida carrellata di tutte le novità che sono state introdotte dalla legge di bilancio in materia di pensioni in particolare. Pensioni ovviamente quelle che sono basate sulla contribuzione, quindi non quelle di natura assistenziale, ma quelle di natura strettamente previdenziale. Condivido con voi lo schermo della presentazione. Ah, è già. Ok. Un attimo solo che... È visibile? Sì, è visibile. Se vai su in alto, fai il schermo intero. Sì, sì, no, sto mettendo la modalità presentazione. Ok. Bene, gli argomenti che vedremo insieme, le novità su cui ci soffermeremo, sono le seguenti. Parliamo di pensione anticipata flessibile, quella che è anche conosciuta come pensione a 403. Vedremo poi le novità che sono state introdotte per la pensione cosiddetta opzione donna. Altrettanto faremo per l'app social, poi per la pensione di vecchiaio contributiva e per la pensione anticipata contributiva. Cominciamo dalla pensione anticipata flessibile o quota 103. Faccio una considerazione in premessa. Gli interventi che sono stati adottati, proposti dal governo e approvati dal Parlamento in materia di previdenza, sono interventi che rispetto alle intenzioni iniziali del programma di governo, di fatto non hanno introdotto aperture e maggiori flessibilità. Potremmo dire che le misure che sono state adottate hanno in qualche modo compresso già opportunità che esistevano e hanno prolungato la possibilità di accedere a pensioni come la pensione anticipata flessibile o quota 103 a condizioni meno favorevoli di quelle che si sono registrate fino allo scorso anno. Questo perché le condizioni complessive di finanza pubblica non hanno consentito, e credo che non lo consentiranno neanche nell'anno prossimo e negli anni a venire, la realizzazione di quegli obiettivi che si era dato nel programma l'attuale governo. Pertanto, vedendo la situazione e cominciando a raccontare di quello che è successo su quota 103, possiamo intanto ricordare che cos'è questa prestazione. Come vedete nella diapositiva, nella definizione è la pensione che si matura con 62 anni di età e 41 di contributi, ed è appunto una pensione anticipata rispetto alla pensione di vecchiaia, quella che si matura ai 67 anni di età e con almeno 20 anni di contributi. I requisiti, come li ho ricordati poc'anzi, sono 41 anni di contributi, 62 anni di età, e questa prestazione sarà disponibile, ci si potrà accedere, soltanto se i requisiti verranno maturati nel corso del 2024. A partire dal 2025 non è detto che questa prestazione venga confermata con queste caratteristiche. Il calcolo di questa prestazione avviene secondo le regole del metodo contributivo, spendo solo due parole per ricordare che il metodo contributivo prevede che la prestazione sia calcolata sulla base dei contributi versati, rivalutati nel corso del tempo applicando un tasso, un coefficiente di rivalutazione pari alla media mobile quinquennale dell'incremento del PIL, questo montante, cioè la somma di contributi rivalutati applicando quel tasso di rivalutazione, al momento del pensionamento viene trasformato in rendita, applicando un cosiddetto coefficiente di trasformazione, cioè un divisore, un elemento che suddivide per gli anni di percezione della rendita attesi, lo suddivide tenendo conto della speranza di vita media al momento in cui si va in pensione. Questo è il cosiddetto metodo di calcolo contributivo che viene applicato alle prestazioni di tutti coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 1995, quindi questa è un'importante novità rispetto alla prestazione di pensione anticipata quota 100, 101 e 102, laddove veniva calcolata negli anni passati applicando invece il sistema misto, cioè una quota retributiva e una quota contributiva. Il metodo retributivo in genere è più favorevole, almeno per la parte di pensione, che viene erogata e liquidata con questo sistema di calcolo. La misura, e questa è un'altra novità introdotta quest'anno, la misura di questa pensione non può superare le quattro volte il trattamento minimo. Oggi pari a 2.255 euro lordi, corrispondenti a 1.700 euro netti al mese. E questa misura, cioè questa sorta di tetto che è stato introdotto alla prestazione anticipata flessibile quota 103, prevede che l'importo così limitato debba essere erogato fino al raggiungimento dell'età pensionabile, cioè fino ai 67 anni. A partire dai 67 anni viene messa in pagamento la misura intera qualora dal calcolo della prestazione l'importo risulti superiore a questo tetto di 2.255 euro lordi mensili. La decorrenza della pensione. La decorrenza della pensione, per questo tipo di pensione, non coincide con il momento della maturazione del diritto. Vale a dire, se la persona ha maturato il diritto sulla base dei requisiti conseguiti dei 41 anni di contributi e dei 62 anni di età al primo di gennaio, per i lavoratori privati e autonomi con i contributi maturati nel corso del 2024, la pensione sarà erogata 7 mesi dopo il primo di gennaio. Quindi vale a dire a partire dal primo agosto del 2024. Questa è la cosiddetta finestra. La finestra sta a significare che non ho immediatamente disponibile la prestazione pensionistica, non mi viene pagata subito, non mi viene pagata soltanto dopo un certo periodo di tempo. Questo periodo di tempo, questo lasso temporale che ho indicato come finestra, l'anno scorso era invece di tre mesi. L'anno scorso si cominciava a conseguire la pensione con quota 103 in caso di maturazione del diritto al primo gennaio dell'anno in corso e questa prestazione veniva erogata a partire dal primo aprile. Quest'anno questa finestra è stata invece allungata nei tempi ed è di sette mesi per i lavoratori del settore privato e per i lavoratori autonomi ed è di nove mesi per i lavoratori del settore pubblico, per i dipendenti pubblici. L'anno scorso questa finestra è invece di sei mesi sempre dalla maturazione del diritto. Che cosa succede se si hanno altri redditi? In presenza di altri redditi la pensione continua ad essere erogata a condizione che gli altri redditi siano redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale fino a un porto massimo di 5.000 euro all'anno. Superato questo importo la pensione viene sospesa. Faccio presente che questo limite alla cumulabilità non era così stringente negli anni precedenti. Parliamo adesso della pensione erogata alle lavoratrici che scelgono la modalità di accesso all'anticipata mediante il canale opzione donna. A questa pensione possono accedere tutte le donne che maturano nel corso del 2024 i 61 anni oppure i 60-51 anni di età e i 35 di contributi. L'età di accesso a questa prestazione varia a seconda della circostanza che la lavoratrice abbia avuto o meno figli. I 61 anni di età per le donne che non hanno avuto figli il requisito di età si abbassa a 60 anni si è avuto un figlio e si abbassa ulteriormente a 59 anni si sono avuti almeno due figli. Il requisito contributivo è pari a 35 anni. Per poter accedere a questa pensione però diversamente dagli anni passati da dove non erano previste ulteriori condizioni il legislatore ha previsto invece dei requisiti ulteriori e sono i seguenti. per poter accedere alla pensione con l'opzione donna comunque bisogna essere o nella condizione di caregiver quindi nella condizione di soggetto che presta assistenza da almeno sei mesi al coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o una fine di secondo grado convivente e se i genitori e il coniuge della persona del parente di secondo grado a fine con handicap in situazione di gravità hanno compiuto 70 anni o siano affetti da patologie invalidanti o decedenti o mancanti. In altri termini se la possibilità di accedere a questa prestazione per prestare assistenza a parenti o affini di secondo grado è possibile solo se i genitori e il coniuge della persona assistita pur presenti sono affetti da patologie invalidanti o hanno superato i 70 anni di età. Altro requisito ovviamente stiamo parlando di requisiti tra loro alternativi e essere in uno stato di invalidità pari almeno al 74% oppure essere adattrici dipendenti o licenziate da imprese in stato di crisi. Ricordo, ripeto, che negli anni passati queste ulteriori condizioni non erano previste. la lavoratrice poteva accedere a questo canale di pensionamento senza queste ulteriori condizioni purché avesse maturato i requisiti di età e di contribuzione. Il calcolo della pensione avviene secondo il metodo contributivo a cui ho fatto prima riferimento. Per cui le lavoratrici che hanno periodi di contribuzione anteriore al 1996 che in condizioni normali danno luogo al calcolo della prestazione utilizzando il metodo retributivo per quei periodi anteriore al 1996, se vogliono accelere a questa prestazione, alla pensione quindi con opzione donna, devono sottostare al calcolo interamente contributivo che normalmente è un calcolo meno favorevole. Il meno favorevole soprattutto per effetto dell'applicazione del coefficiente di trasformazione della pensione del montante che è commisurato alla speranza di vita al momento del pensionamento e poiché il momento del pensionamento, come avete visto, è dai 60 ai 51 anni il coefficiente di trasformazione fa sì che l'importo della rata di pensione poiché è commisurato alla vita attesa al momento dell'accesso al pensionamento fa sì che la rata di pensione sia più bassa della rata di pensione che si conseguirebbe aspettando l'età pensionabile, quindi di 67 anni o con il metodo retributivo. La decorrenza della pensione, quindi la finestra, anche in questo caso la possibilità di percepire la prima rata di pensione è differita rispetto al momento della maturazione del diritto per cui se si matura il diritto al primo gennaio del 2024 la pensione però viene messa in pagamento al primo gennaio del 2025 se si è lavoratrice autonome, questo è orario per lavoratrici dipendenti se invece si è lavoratrice autonome la pensione viene messa in pagamento 18 mesi dalla maturazione del diritto per cui il diritto maturato il primo di gennaio del 2024 pensione, prima rata di pensione messa in pagamento il primo luglio del 2025 Vediamo adesso l'APE Social anche per questa prestazione ci sono state delle novità rispetto agli anni precedenti Intanto ricordo che l'APE Social è questa sorta di trattamento previdenziale assistenziale che accompagna al pensionamento non è una pensione in senso stretto ma ha questa prestazione periodica erogata per 12 mesi quindi senza necessità aggiuntive che ha un carattere sperimentale e che accompagna fino al momento della maturazione del diritto a pensione di vecchiai ai 67 anni di età però per accedere a questa prestazione bisogna essere in possesso di determinati requisiti intanto requisiti di età ovviamente stiamo parlando di requisiti di età che devono essere soddisfatti nel 2024 Bene, l'età nel 2024 per accedere a questa prestazione è pari a 63 anni e 5 mesi fino allo scherzo anno erano solo 63 anni i 5 mesi che sono stati aggiunti stanno a significare che anche a questo limite anagrafico viene applicato così come viene per limiti anagrafici delle pensioni il meccanismo dell'adeguamento alla speranza di vita cioè man mano che la speranza di vita aumenta cresce nel tempo altrettanto proporzionalmente viene incrementato il limite di età per accesso alla prestazione previdenziale Servono poi i seguenti periodi contributivi minimi per poter accedere a questa prestazione all'APE Se si è disoccupati che abbiano completato la funzione dell'ANASPI oppure care giver che convivano da almeno 6 mesi con un disabile grave oppure persone con invalità pari almeno al 74% sono sufficienti 30 anni In caso di invece lavoratori vivi e ceramisti occorrono 32 anni il requisito viene innalzato a 36 anni di contribuzione per i addetti al lavoro gravoso per i addetti lavoratori che svolgono attività gravose e per i lavoratori che abbiano svolto una delle 23 attività lavorative contenute in un allegato ovviamente non ve lo rappresento sono attività particolari che nella legge di bilancio del 2022 furono individuate come attività particolari che consentivano l'accesso a questa prestazione Per le donne è prevista la riduzione di un anno di contributi per ciascun figlio nel limite massimo di due anni per cui l'età di 63 anni e 5 mesi diventa 62 e 5 mesi in caso di un figlio soltanto nel caso in cui la donna abbia avuto un figlio che diventano 61 anni e 5 mesi quando si è avuti più di un figlio quando si è avuto più di un figlio Il meccanismo di concessione dell'APE sociale prevede un procedimento articolato bisogna entro determinate finestre chiedere il riconoscimento dei requisiti per poter accedere a questa prestazione una volta chiesto il riconoscimento dei requisiti in quel momento è possibile poi presentare la domanda di prestazione la domanda per ottenere il riconoscimento dei requisiti va presentata entro le tre date che vedete rappresentate in questa depositiva entro il 31 marzo del 2024 che è la prima scadenza utile oppure entro il 15 luglio 2024 o il 30 marzo del 2024 rispettivamente con riferimento a queste tre date l'istituto deve comunicare l'esito della definizione di questa domanda di riconoscimento dei requisiti entro il 30 giugno rispetto al 31 marzo entro il 15 ottobre con riferimento alla scadenza del 15 luglio ed entro il 31 dicembre con riferimento alla scadenza del 30 novembre è importante aver presente che qualora l'interessato sia certo dell'avvenuto raggiungimento dei requisiti che prima ha indicato in presenza della certezza qualora sia consaporito e certo dell'avvenuto raggiungimento di questi requisiti è opportuno che presenti contestualmente anche la domanda di prestazione perché questo consente di vedere viene messa in pagamento la prestazione a partire dal mese successivo della presentazione della domanda l'APE cioè questa prestazione ponte che porta fino alla pensione viene colcolata tenendo conto delle regole di calcolo delle pensioni come se la persona andasse in pensione in quel momento non è, ribadisco, ancora una pensione è soltanto una prestazione ponte però si calcola con le stesse regole delle pensioni con un tetto anche in questo caso di 1.500 euro l'ordi mensile al momento del raggiungimento dell'età pensionabile in quel momento viene messa in liquidazione la pensione di vecchiaia cumulabilità con altri redditi fino al 2023 c'erano condizioni più vantaggiose rispetto alla possibilità di cumulare la prestazione con altri redditi da lavoro in questo caso a partire da quest'anno è possibile cumulare questa prestazione con altri redditi solo se sono redditi derivanti dallo svolgimento di attività da lavoro autonomo occasionale fino a un massimo di 5.000 euro annui il che vuol dire che se si dovesse superare questa soglia questo tetto di 5.000 euro annui la prestazione viene sospesa anche per la pensione di vecchiaia contributiva cioè la pensione di coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 1996 si registrano delle novità rispetto al passato ricordo che la pensione di vecchiaia contributiva è quella a cui hanno diritto tutti coloro che hanno versato il primo contributo al sistema pensionistico obbligatorio dopo il 1995 le regole rispetto al 2023 sono identiche tranne che per l'aver introdotto tranne che per un'ulteriore condizione di accesso che riguarda il cosiddetto importo soglia vediamo comunque in rassegna quali sono i requisiti e le condizioni di accesso l'età per la pensione contributiva è di 67 anni i contributi minimi richiesti sono 20 anni l'importo soglia l'importo soglia sta a significare questo che se la persona al momento non ha maturato non vediamo più lo schermo è stata aggiunta o meglio più che aggiunta è stata mutata rispetto al passato in questo caso in termini più favorevoli ripeto l'importo soglia sta a significare questo che se al momento della maturazione del diritto a pensione teorico quindi con 67 anni di età e 20 anni di contributi l'importo alla pensione calcolata in quel momento non è superiore a un determinato importo non può essere messa in pagamento fino al 2023 quest'importo soglia era pari a una volta e mezza l'importo del sogno sociale che nel 2023 dava luogo a una limite pari a 760 euro e 54 centesimi mensili da quest'anno quest'importo soglia si è ridotto è sceso a 534 euro e 41 centesimi mensili è una misura di vantaggio perché consente di poter accedere alla pensione anche a coloro che hanno pensioni più basse diversamente nel caso in cui non si è ancora raggiunto l'importo soglia bisogna aspettare l'età o continuando a lavorare o anche smettendo di lavorare l'età che consente il raggiungimento di questo importo e questo può avvenire anche per la semplice applicazione di un coefficiente di trasformazione ad età successive che è più vantaggioso per la persona ricordate io ho parlato del concetto di speranza di vita chi sta nel sistema contributivo ha il trattamento pensionistico commisurato alla speranza di vita al momento in cui smette di lavorare e va in pensione ebbene se si attende applicando un coefficiente di trasformazione a un'età maggiore di 67 anni si può raggiungere l'importo soglia anche se si è smesso di lavorare a 71 anni di età in ogni caso qualunque sia l'importo della pensione maturata la prestazione viene messa in pagamento quindi questa è l'unica novità in questo caso più vantaggiosa per i lavoratori che è stata introdotta quest'anno per la pensione di vecchiaio contributiva gli altri requisiti della pensione sono i seguenti se si è lavoratrici e si è madri lavoratrici viene previsto un anticipo di 4 mesi per ogni figlio rispetto all'età pensionabile fino al massimo di 12 mesi in alternativa a questo accesso anticipato si può chiedere l'applicazione di un coefficiente di trasformazione del montante contributivo quindi l'applicazione di un coefficiente di un montante contributivo in pensione di un anno in più rispetto in caso di uno o due figli e di due anni qualora si siano avuti più di due figli che cosa vuol dire questo che se la lavoratrice o può optare per andare in pensione a 66 a meno di 67 anni a seconda dei figli avuti o in alternativa va in pensione a 67 ma chiede l'applicazione di un coefficiente di trasformazione quindi quel coefficiente che consente di tener conto della speranza di vita al momento di pensionamento maggiorato di un anno o due a seconda dei figli avuti per invalidi ciechi lavoratori che hanno svolto mansioni gravose mansioni usuranti o particolarmente usuranti sono previste età di pensionamento più basse possiamo passare alla successiva Beatrice è possibile grazie ok non sono per le modalità di accesso non sono previste finestre tranne che per alcune tipologie connesse in varietà o cecità sono quelle pensioni con accesso anticipato sto parlando di pensione di vecchiaia il sistema di calcolo ovviamente quello contributivo integralmente contributivo e questa pensione è pienamente cumulabile con tutti gli altri redditi da ultimo vediamo le novità che hanno invece interessato la pensione anticipata contributiva è sempre una prestazione che viene erogata a quello diritto i lavoratori che hanno cominciato a lavorare a versare contribuzione dopo il 1993 1995 questa prestazione è accessibile tre anni prima del compimento dell'età pensionabile quindi stiamo parlando di 64 anni di età questa età al pari dell'età pensionabile di 67 anni è destinata a crescere nel tempo per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita si prevede che come l'età pensionabile al momento sulla base delle proiezioni che sono state effettuate dall'amministratore dell'economia e finanze come per l'età pensionabile si passerà dai 67 anni e un mese a partire dal 2029 altrettanto avverrà ci sarà questo incremento di un mese per l'età della pensione anticipata contributiva che diventerà dal 2029 64 anni e un mese i contributi il requisito contributivo è pari a 20 anni anche questi e questa è una novità questa è la novità una delle due novità rispetto all'anticipata contributiva a cui si è acceduto fino al 2023 anche il requisito contributivo sarà adeguato sarà incrementato in ragione dell'aumento della speranza di vita fino al 2023 questo requisito contributivo era fisso come requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria l'importo soglia anche in questo caso abbiamo una modifica rispetto alla regola che è valsa fino allo scorso anno perché l'importo soglia è stato rivisto ma in questo caso in modo meno vantaggioso e più sfavorevole rispetto al passato perché fino al fino allo scorso anno l'importo soglia era pari a 2,8 volte l'assegno sociale da partire da quest'anno l'importo soglia diventa pari a tre volte l'assegno sociale vale a dire che se la pensione maturata al compimento dei 64 anni età con 20 anni di contributi non è pari almeno a 1.603 euro e 23 centesimi al mese non è possibile denersela erogata bisogna aspettare ci sono condizioni più vantaggiose però quindi rimane a 2,8 volte l'assegno sociale l'importo soglia per le donne che hanno un figlio e si riusce a 2,6 volte l'assegno sociale per le donne con due figli accanto all'inaspiramento previsto con l'innalzamento a tre volte dell'importo del valore dell'assegno sociale l'importo soglia c'è stata questa mitigazione per le donne che hanno avuto almeno un figlio le modalità di accesso e siamo alla penultima della depositiva sono le seguenti devono essere trascorsi almeno 3 mesi la maturazione dei requisiti quindi anche in questo caso abbiamo una finestra di 3 mesi rispetto al momento in cui si è maturato il diritto alla pensione fino al 2023 questa finestra non c'era quindi la decorrenza coincideva con il momento della maturazione del diritto alla pensione il sistema di calcolo e il sistema contributivo però novità ulteriore è se non si è maturata una pensione o meglio se si è maturata una pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo fino al compimento dell'età pensionabile questa pensione viene assoggettata a un tetano di limitazione che fa sì che la prestazione erogata si non superi le 2.993 euro ovviamente l'ordine è pienamente comunabile con tutti gli altri redditi abbiamo finito in questa diapositiva sono ricordati i contatti per ulteriori approfondimenti per richieste di ulteriori approfondimenti e poi è ricordato anche il numero verde gratuito dell'INPS a cui si può chiamare è l'803 164 che è gratuito dal telefono fisso quando si chiama da cellulare bisogna chiamare lo 06 164 164 in tal caso però la chiamata è a pagamento vi ringrazio per l'attenzione sono andato un po' lungo mi dispiace spero di aver tolto troppo tempo agli altri sono comunque a disposizione per qualsiasi richiesta di chiedimento grazie Piero gentilissimo ricordo a tutti anche che saranno disponibili sia la le slide sia la registrazione e che aggiorneremo prima possibile anche le schede sul manuale dei diritti e esco insattivamente Alberto posso dare la parola a Salvatore Gerardi io direi sì di lasciare tutte le domande al termine di di fare l'esposizione di Salvatore anche va bene Salvatore a te la parola ecco buonasera a tutte a tutti devo dire io non devo dare buone notizie purtroppo perché al momento la situazione è abbastanza critica parlerò che seppur brevemente dell'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale anch'io ho preparato delle diapositive che adesso vi metto ecco qua non so se vedete sì Salvatore grazie allora una premessa le norme in genere per l'assistenza sanitaria agli immigrati agli stranieri anche ai cittadini comunitari sono buone norme cioè sono state strutturate e costruite in senso inclusivo quindi abbiamo una situazione positiva in genere ci sono poi delle situazioni un po' più delicate e particolari che nel tempo avevano trovato un certo equilibrio ma che proprio una di queste è stata appunto modificata dalla finanziaria ultima vi do alcune alcune date la norma che è stata cambiata adesso con la finanziaria è una norma anzi addirittura era un decreto ministeriale che faceva riferimento a una legge del 1980 ed è del 1986 si fa riferimento sempre a questa norma poi alla legge il testo unico sull'immigrazione del 1998 e per quanto riguarda i comunitari a un accordo stato-regione del 2012 perché vi dico queste date perché sono una chiave di lettura cioè si modifica una norma che chiaramente andava in qualche modo adeguata la norma vecchia dell'86 che però aveva un senso in quel periodo in un'epoca molto particolare soprattutto in un periodo addirittura pre-legge sull'immigrazione del testo unico sull'immigrazione per cui aver semplicemente adeguato quelle aliquote ha poco senso oggi io ritengo infatti che questa norma sia una norma sbagliata non tanto tecnicamente questo lo diranno gli avvocati io poi sono un medico di sanità pubblica quindi dal punto di vista giuridico però ho l'impressione che tecnicamente sia abbastanza corretta però quello che è sbagliata è l'analisi che è stata fatta dal punto di vista tecnico ed è sbagliata nei presupposti e soprattutto nell'attualità quindi andrebbe modificata con un'azione politica e anche tecnica molto articolata purtroppo non è stato fatto in fase di proposta e questo rende tutto più difficile oggi ma cerchiamo di capire di che cosa parliamo è la legge finanziaria che ha modificato le aliquote chiamiamole così proprio dell'iscrizione volontaria e già questo tra l'altro legge finanziaria in realtà è la legge di bilancio e questo già è un problema perché è diciamo la legge principe tra tutte le leggi dello Stato una legge dove serve generalmente a trovare delle risorse e a ridistribuire delle risorse quindi andando a pensare di modificare una legge di bilancio bisogna anche ragionare in termini di risorse che vengono tolte oppure che vengono rimesse quindi è abbastanza complesso chi ha deciso di inserire questa norma nella legge di bilancio certamente insomma ha fatto bene i conti sappiate che sono anni che il ministero della salute su spinta del MEF del ministero economia e finanza cerca di modificare questa norma e chiaramente il ministero della salute ha dovuto diciamo confrontarsi con le regioni in conferenza Stato-Regioni e questa norma non è stata mai modificata per la complessità che c'è sotto ho provato a dire a dire prima e diciamo con con un'azione così unilaterale improvvisa invece il MEF si è riuscito a inserire nella legge di bilancio stessa ma che cos'è l'iscrizione volontaria diciamo la legge sul testo unico sull'immigrazione prevede che la stragrande maggioranza degli immigrati che sono presenti regolarmente in Italia la stragrande maggioranza siano iscritti obbligatoriamente al servizio sanitario nazionale cioè non pagano all'atto dell'iscrizione non significa che sono iscritti gratuitamente significa semplicemente che non pagano all'atto dell'iscrizione e poi pagano come paghiamo tutti noi il servizio sanitario attraverso la fiscalità diretta e quella indiretta e questi sono la stragrande maggioranza poi c'è una parte dove invece non è prevista l'iscrizione obbligatoria ma è prevista una copertura assicurativa o eventualmente un'iscrizione volontaria al servizio sanitario e noi stiamo parlando di questo l'iscrizione volontaria a differenza dell'iscrizione obbligatoria si paga all'atto o meglio subito prima dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale secondo determinate tariffe con un minimo e poi sono diversificate per il reddito l'iscrizione obbligatoria vale fin quanto vale il permesso di soggiorno e vale anche nell'emore del rinnovo del permesso di soggiorno l'iscrizione volontaria vale l'anno solare dal primo gennaio al 31 dicembre e più specificatamente dal momento in cui la fai fino al 31 dicembre non modificando le quote indipendentemente da quanto le fai le quote sono sempre le stesse e non è retroattiva queste sono le categorie che hanno diritto all'iscrizione volontaria o meglio assicurazione privata o iscrizione volontaria e sono studenti e le persone alla pari che ha residenza elettiva personale religioso a meno che non sia iscrivibile obbligatoriamente perché se il personale religioso lavora ad esempio se sono degli stranieri che hanno un permesso per motivi religiosi ma sono parroci questi entrano nella definizione dei lavoratori e quindi iscrizione obbligatoria poi personale diplomatico dipendenti stranieri organizzazione internazionale chi è presente per programmi di volontariato genitori ultra 65 anni che sono entrati in Italia dopo il 5 novembre 2008 e poi tutte altre categorie che non sono previste nell'iscrizione obbligatoria e dove non è nemmeno ostativa l'iscrizione al servizio sanitario però queste sono diciamo la stragrande maggioranza delle persone che poi vanno all'iscrizione volontaria fino al 31 dicembre del 2003 l'iscrizione volontaria prevedeva delle tariffe il rapporto al reddito con tariffe minime che erano 149 euro per gli studenti 219 per le persone collocate per la pari e 389 adesso io non vedo perché c'ho una eccolo qua 387 per tutti gli altri quindi anche per quanto riguarda i regi religiosi la norma che cosa dice? dice una cosa molto molto semplice sostituisce all'interno del testo unico sull'immigrazione il riferimento alla contributo minimo e lo aggiorna a 2000 euro l'anno quindi quello che prima era 386 euro diventa 2000 euro anno poi aggiorna anche i contributi forfettari che sono quelli per i studenti o collegati alla pari vedete a 700 euro e a 1200 euro non modifica le percentuali di contribuzione in rapporto al proprio reddito come dire che le persone con reddito più basso pagano molto molto di più le persone con reddito più alto pagano uguale a prima quindi già questa è profondamente un'ingiustizia un diplomatico che ha 50.000 euro di reddito paga la somma la stessa liquida che pagava prima della legge finanziaria mentre qui ho visto tanti religiosi i religiosi pagano a posto 386 euro devono pagare 2000 euro l'anno ecco qui questo ho fatto un po' uno schermettino dove faccio vedere come sono modificate quindi lo studente passa da 149 euro a 700 euro il collogato alla pari da 219 a 1200 il religioso 387 a 2000 chi ha la residenza elettiva sia straniero che comunitario anche colui che non ha reddito voi pensate in questo ambito ci sono tutti i senza dimora che dal punto di vista sociale viene data una residenza elettiva una residenza quella che veniva detta virtuale fittizia insomma tutti i termini un po' discutibili però che viene data una residenza perché con la residenza può accedere a tutta una serie di diritti bene nel momento in cui hai una residenza è una residenza elettiva e devi pagare 2000 euro o ancora ci possono essere stranieri che hanno lavorato regolarmente che hanno avuto un incidente grave incidente sul lavoro che ricevono la pensione che però non possono aver avuto rinnovato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro perché chiaramente non possono più lavorare e gli viene data una residenza elettiva bene a queste persone non gli diamo la pensione ma nello stesso tempo chiediamo 2000 euro ma lo stesso discorso per i volontari e così via in fondo ho messo i diplomatici con reddito superiore ai 51.000 euro pagavano 2700 euro di iscrizione oggi pagano ancora 2700 euro di iscrizione sempre la legge di bilancio ha aggiunto altri due come uno che dice sostanzialmente che ogni anno è possibile adeguare queste tariffe quindi come dire ogni anno si può modificare la tariffa tra l'altro non dice nemmeno secondo quali criteri perché parla di anche tenendo conto della variazione accertata dall'ISTAT quindi significa che possono esserci anche altri criteri è come dire che chi ha normato chi ha fatto questa norma si è voluto lasciare le mani libere per fare qualsiasi altra cosa nel futuro qui c'è stato veramente una disattenzione grandissima di chi doveva stare attento a quello che si stava facendo perché veramente è una norma fortemente ingiusta infine nell'ultimo comma sostanzialmente i versamenti che prima erano fatti attraverso conto corrente postale per ogni singola regione invece si passa sempre per le regioni però attraverso l'F24 come dire il MEF vuole controllare tutto quello che succede anche in termini economici a livello locale non è niente di male questa cosa però fa capire diciamo che c'è una sorta di commissariamento più o meno nascosto per quanto riguarda la parte del MEF nei confronti del sistema del servizio sanitario in azione sono uscite delle circolari due del ministero della salute e due della regione Lazio dove si è cercato in maniera grossolana perché non ci stanno tantissimi modi per aggirare o come dire modificare questo tipo di norma si è cercato di tamponare alcune cose nella fattispecie l'ultima circolaria della regione Lazio che è coerente anche se è molto più semplice per fortuna rispetto alla circolaria del ministero della salute che vi assicuro è illegibile e dice chi ha effettuato il versamento nell'anno 2023 che si riferiva al 2024 quindi l'ha fatto necessariamente con le passate aliquote perché non sapeva nemmeno perché tra l'altro la norma è presente dell'ultimo dell'anno quindi quelle aliquote vanno bene anche per tutto il 2024 quindi se qualcuno di voi aveva fatto nel 2023 il versamento bene non deve conguagliare non deve valere per tutto il 2024 chi ha fatto il versamento nel 2024 ed ha formalizzato l'iscrizione al servizio sanitario perché non è contestuale la cosa prima si fa il versamento e poi si va a iscrivere o a reiscrivere al servizio sanitario in questo caso dice la legione ma lo specifica il ministero della salute queste somme non verranno rimborsate copriranno i primi tre mesi e poi si dovranno conguagliare se la persona vorrà se non si conguaglia teoricamente si dovrebbe fare una assicurazione che in qualche modo copre i prossimi mesi se il versamento è stato fatto nell'anno 2024 con i precedenti importi ma non si è ancora formalizzata l'iscrizione al servizio sanitario è possibile richiedere rimborso e a quel punto poi la persona può decidere se fare un'iscrizione volontaria e quindi conguagliare oppure fare un'assicurazione privata infine la regione Lazio dice quali sono che si deve usare il modello F24 dai codici del tributo e in fase transitoria però dice anche che chi ha versato già con il conto corrente postale va bene anche quello cioè non c'è bisogno di chiedere rimborso di riscriversi attraverso l'F24 chiaramente nel 2025 tutte le cose che sono state previste che sono state introdotte senza eccezioni diventeranno vanno a regime che cosa si può fare e qui diciamo è molto complicato intervenire per le cose che vi ho detto secondo me è necessario intervenire ma non solamente per i religiosi perché i religiosi hanno effettivamente fatto già delle azioni delle azioni di advocacy anche molto puntuali però come vi ho fatto vedere non colpisce solamente i religiosi ma colpisce anche delle situazioni di estrema fragilità sociale ma anche gli stessi studenti cioè le aliquote che erano previste 30 anni fa 40 anni fa non è che le puoi adeguare basta c'era un mondo completamente diverso 40 anni fa quindi è proprio da ripensare tutto il sistema come è da ripensare che l'iscrizione dell'anno solare non va bene come è da ripensare il fatto che deve essere versato tutto in un'unica quota insomma ci sono tante cose come è da ripensare il fatto che se uno ha una residenza elettiva da supporto sociale non deve entrare in queste cose quindi è su questi temi che vi sto dicendo le regioni avevano cominciato a lavorare c'era stato non dico un contenzioso però un dibattito all'interno della conferenza stato-regioni che poi è se tutto bloccato chiaramente con questa azione aggampadessa da parte del MEF al momento ci sono un paio di ordini del giorno che sono stati votati alla Camera che uno di questi impegna alla Camera che la prima occasione possibile si possa modificare la legge facendo passare ad esempio l'iscrizione dei religiosi dall'iscrizione volontaria all'iscrizione obbligatoria che vi devo dire non so effettivamente dove questo potrà potrà portare e se potrà portare effettivamente a qualcosa certo è anche alla vigilia del Giubileo pensare questa impostazione per i religiosi per gli studenti per i volontari mi sembra veramente qualcosa di cattivo lasciatemi questo termine come indicazione bene ho finito grazie salvatore prendo prendo subito la parola perché c'è arrivata la prima domanda adesso dico a tutti chi vuole può prenotarsi con la mano alzando la mano che troverete sotto tra i comandi così vi darò la possibilità di intervenire la prima domanda dice a chi deve essere chiesto il rimborso alla legione alla legione Lazio cioè c'è un modulo qualcosa che io sappia non c'è un modulo però si può andare alla ASL dove uno normalmente allora bisogna vedere quindi in questo caso significa che sono persone che hanno fatto il versamento ma non hanno fatto l'iscrizione giusto perché questo ci dice la regione no no la regione c'è o attraverso le ASL o direttamente all'ufficio che si occupa di immigrazione nell'assessorato della sanità della regione Lazio magari poi faccio possiamo inserire nelle diapositive quindi quando le facciamo girare mettiamo anche l'indicazione puntuale ok se togli la condivisione dello schermo così e suor e Gleisi ho pronunciato bene hai chiesto di intervenire puoi attivare l'audio ecco non ti sentiamo bene se non riesci puoi anche scrivere nella chat proviamo se qualcun altro vuole intervenire io diciamo ecco no allora Marta puoi intervenire tu o sì mi dovete dare anche l'audio perché a me non me lo lascia che abbiamo dato l'audio no voglio dire il video ma l'audio c'è ah vabbè insomma non so perché dice che non posso avere il video perché voi me lo impedite comunque sono una suora vediamo un attimo ecco non mi dà a me dice che il video va bene non importa allora come suora e di una qualunque delle congregazioni che ci sono in Italia voglio far presente che questa questa legge appunto che fa riferimento alla possibilità di stringere contratti di lavoro per rientrare in quel versamento obbligatorio anziché quello volontario non tiene conto che questo specifico tipo di permesso di soggiorno che è motivi religiosi così come è stato inventato diciamo dal ministero dell'interno non consente di stringere eh di sottoscrivere dei contratti di lavoro quindi stanno chiedendo due cose eh che non possono andare in accordo tra loro e d'altra parte eh per per com'è strutturata la la vita religiosa non sarebbe nemmeno possibile diciamo che eh ogni suora di un convento anche italiana per carità andasse fuori di casa a cercare un lavoro tra l'altro sottraendolo ad altre persone evidentemente e ci sono anche delle tipologie di di lavoro interno come può essere quello di una superiore locale o maggiore che è impensabile che vada anche a lavorare in un ufficio fuori casa cioè intendo dire eh questo assimilare eh motivi religiosi ad altri tipi di di motivi di di permesso di soggiorno non non funziona ecco quindi eh una cosa che quarant'anni fa non poteva essere magari prevista era il fatto che oggi come oggi quasi tutta la vita religiosa d'Italia è formata da persone extracomunitarie ecco quindi si verrebbe a creare non soltanto un onere fiscale pazzesco perché nel nostro caso cinquantaquattro suore su ottantuno sono straniere noi non possiamo reggere un tale peso ogni anno è chiaro però eh diciamo dall'altra parte eh senza di queste non non possono essere sostituite da da altre perché si tratta di 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 suore ecco cioè voglio dire non è come dire cacciamo i contadini extracomunitari mettiamo contadini italiani se non ci sono le suore extracomunitarie non esistono altre suore italiane da mettere al loro posto quindi verrebbe meno anche un servizio molto molto importante che viene fatto gratuitamente anche da parte dei suori italiani eh è fatto gratuitamente diciamo un servizio anche sociale socialmente utile poi non parliamo delle monache di clausura che a questo punto cioè verrebbero proprio a diventare ancora più invisibili eh agli occhi dello Stato quello che voglio dire è proprio che alla base di tutto questo c'è una mancanza di di attenzione proprio alle categorie ecco è molto brutto anche questo che eh che abbiamo sentito riguardo ai ai poveri eccetera ma se un povero oggi disoccupato domani può avere la speranza di trovare un lavoro anche spinto dalla necessità di questa legge per i motivi religiosi questo non può proprio accadere perché è proprio la tipologia che che lo impedisce quindi cioè non è per voler avere un privilegio eh trecentottantasette si riesce a reggere anche se diciamo anche se ovviamente però è anche giusto nel senso eh ma duemila per ciascuno vorrebbe dire annientare un un servizio che entra in tanti ambiti eh sociali eh del volontariato di 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 tutto insomma del non soltanto un discorso religioso è questo soltanto il mio commento grazie grazie Marta allora prima di dare la parola ad Alessandro che ha alzato la mano e e prima che Salvatore intervenga ci sono altre domande scritte nella chat che prova a sintetizzare due riguardano le assicurazioni private Salvatore se puoi dare una panoramica delle assicurazioni più o meno qual è il costo e se quali sono le compagnie la seconda invece fa riferimento alle assicurazioni però dice senza un medico di famiglia non funziona nemmeno l'assicurazione privata oppure è molto costosa quindi anche l'assicurazione in quel caso poi c'è Suor Glenn si che non è riuscita a parlare prima era collegata e fa riferimento a un trattato tra Italia e Brasile per l'assistenza sanitaria e dice se questo viene modificato o se ancora questo trattato è valido perché lei finora è ricorsa a questo per poter avere le cure sanitarie bene ti lascio e poi do la parola dopo che ha parlato Salvatore puoi prendere la parola Alessandro per fare la sua domanda sì sono d'accordo con la prima prima intervento sul fatto che è assolutamente anacronistico oggi pensare l'approccio che era stato pensato 40 anni fa sia in termini di proporzioni di per quanto riguarda i religiosi ma per tanti per tante situazioni oggi è molto più facile viaggiare spostarsi è molto più facile che uno decida di programmare una vita oppure formarsi in un certo posto piuttosto che andare in un altro quindi è proprio c'è un problema di fondo sul tema del lavoro era riferito in particolare per quanto riguarda i parroci anche se la regione Lazio non formalmente però quello che il ragionamento che fa che da fronte dove c'è comunque un contratto di lavoro allora in quel caso il contratto di lavoro prevale su tutto però chiaramente non è la soluzione il contratto di lavoro per i religiosi quindi non penso sia percorribile per quanto riguarda invece le assicurazioni io non so quali sono le tariffe fino a qualche tempo fa c'erano delle assicurazioni abbastanza apportate che però non garantivano praticamente nulla non è necessario il medico di base per l'assicurazione perché il medico di base serve per la sanità integrativa cioè serve la richiesta del medico di base perché poi se tu fai un intervento con la sanità integrativa con la richiesta del medico di base hai il 100% del rimborso se non ce l'hai con delle franchigie ma qui non siamo sulla sanità integrativa qui è proprio un'assicurazione un'assicurazione che proprio io non me ne intendo per cui non so dire però è un'assicurazione che copre alcune cose ed in genere sono le cose più più urgenti e da medico posso dire che l'assicurazione non tutela la salute delle persone perché la salute delle persone si tutela attraverso la medicina primaria attraverso tutti gli aspetti della prevenzione e le assicurazioni non garantiscono né la medicina primaria né tantomeno tutta la parte preventiva il trattato Italia-Brasile quello confermato tutti i trattati bilaterali continuano a esserci però chiaramente bisogna entrare con il modulo con l'autorizzazione del trattato bilaterale però quello è stato mantenuto è obbligatorio essere iscritto al servizio sanitario come? dicono è obbligatorio avere un'assicurazione o essere iscritto al servizio sanitario oppure uno può non farlo no è obbligatorio l'uno o l'altro cioè devi avere una copertura assicurativa che può essere pubblica o privata l'assicurazione pubblica era il servizio sanitario nazionale che è la costituzione in assoluto Alessandro può intervenire grazie la mia domanda era quando si parla delle pensioni il periodo di decorrenza visto che in alcuni casi mi sembra piuttosto lungo fino a 18 mesi se ho ben capito ma durante questo periodo poi è uno che fa resta al lavoro e quindi guadagna oppure per un anno e mezzo è senza soldi né lavoro né pensione no no può continuare a lavorare se ovviamente non non viene licenziato può continuare a lavorare fino al momento del raggiungimento della finestra quindi l'inizio della decorrenza della pensione non c'è un obbligo accessare è stato diciamo che la decorrenza o la finestra è stato un po' un escamotaggio usato in anni in anni lontani che poi adesso è stato ripristinato per allungare di fatto l'età l'età lavorativa ok grazie ricordo a tutti perché molti lo chiedono nella chat e tra qualche giorno non domani più probabile dopo domani tutta la registrazione di oggi sarà disponibile nel sito www.caridassaroma.it slash manuale diritti il link l'ho inserito nella chat l'ho condiviso quindi potrete rivedere questo e anche le diapositive che sono state proiettate quindi lascio la parola se qualcun altro alza una mano e vuole intervenire c'è Marta che interviene di nuovo nella chat per la cittadinanza italiana che è difficile per i religiosi perché chiedono l'ISEE degli ultimi tre anni e qui poi ne parleremo quando parleremo della cittadinanza faremo un altro modulo bene se non ci sono altre domande do la parola a Beatrice per le conclusioni io ringrazio Piero ringrazio Salvatore ringrazio a tutti voi che avete partecipato alla formazione e vi auguro una buona serata e alla prossima